Buongiorno, siamo in due Beati voi Oh, avete prenotato? No E allora lo sai com'è Chi non prenota generalmente poi non viene Camellare che siamo a tappo Ma sono la Lella Piacere, parodi La sorella di Mario Ah, la sorella di Mario? Scusimi Oh Mario, c'è la Lella tua sorella con uno Oh Mario C'è uno con la Lella Oh Mario, c'è la Lella, non ci dici niente Ma lì ho capito, ma cosa devo fare? Le capriole col belino di fuori È venuta la Lella a mangiare E sarà venuta a mangiare come tutti gli altri, no? Vabbè, mettetevi un po' dove volete Ma scusa, il cameriere Scusa, qui i camerieri non ce n'è Qui siamo tutti padroni Cosa vuoi? Posso bere un po' di sale Perché? Eh, perché la pasta è un po'... Un po' di cosa? Insipida 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 Ma che vuole parlare all'italiano? Stato, ovvio Ma poi insipida, cosa? Che mettete il parmigiano sui gamberroni, brutte belline O Birkenstock, ti mangi come la pasta è insipida, hai capito? Ma dove è il problema, basta un po' di sale Eh, ma si tratta di aggiungere degli ingredienti al piatto Io non me la siedo, bisogna parlare con il cuoco Poi te lo dico per te, guarda, è meglio se lasciamo il cuoco fuori da questa storia Ma perché? Perché? Te lo faccio vedere subito perché Gianni! Eh! Vieni un attimo Che c'è questo cuoco che dice che la pasta è un po' insipida Cosa? Vieni un attimo qua a vedere che questo va bellinato Ha detto che vuole aggiungere il sale Vuoi il sale? Come il sale? Il sale fa male alle arterie Poi mi viene arteriosclerotica Va bene, non c'è problema Lo dico io se non c'è problema, va bene? Anzi, ora che mi avete chiamato, dico una cosa a tutti quanti Chi vuole il secondo, lo ordina adesso Perché poi la cucina, allora meno un quarto, chiude, chiaro? Inoltre ribadisco che non esiste possibilità alcuna di fare modifiche alle ordinazioni Bravo Tutto chiaro? Bene, a posto? Oh, allora, qui? Non c'è problema Oh, bravo, non c'è problema Tieni sto piatto, ci portiamo il conto Allora, però te lo dico subito Bancomatica, restaurant, quelle cose Non ne prendiamo Ce li dai contanti sulle pancette delle dita Quale conto? Io vorrei mangiare ancora un secondo Posso avere il menù? Bene, il menù non c'è Guarda, cruco, qua strincendo Sono rimaste le specialità della casa Torta di riso, prende solo un culo Eh, ma ne vengo adesso dalla cucina Torta di riso È finita Liguria Meglio lasciare il cuoco fuori da questa storia